I sindaci terramani no cratere dei comuni di Colle d'Ara, Campli, Civitella, Castelli, Castelcastagna, Tossicia, Isola del Gran Sasso, Torricella, Pietracamele e Fano Adriano lanciano un appello alle istituzioni per velocizzare le verifiche sugli edifici ma soprattutto per dare un tetto agli sfollati. Rappresentano circa 8.500 famiglie, oltre 20.000 persone, alle prese con danni ingenti alle case e alle attività produttive. Per questo l'obiettivo è non essere esclusi dai fondi previsti per la ricostruzione. Quello che chiedo io alle istituzioni è di cominciarci a mandare immediatamente qualche fonda in modo da anticipare qualche mese della autonomia sistemazione a questi nuclei familiari in modo che possano fare contratti di affitto. Per il momento noi siamo fermi con le verifiche e le ordinanze a quello che sono state le verifiche del 24, a seguito del sistema del 24 dove abbiamo fatto 11 ordinanze di sgombero e chiusura e interdizione di parecchi tratti dell'interno del paese. Però adesso aspettiamo le nuove verifiche per capire effettivamente quelli che sono i danni condizionali. Non mi vorrei prendere, voglio dire, né all'anarismo né a sottoportare la situazione nuova. Aspettiamo le squadre per capire ma i danni ci sono, voglio dire, e sono evidenti. Noi abbiamo tutto il centro storico evacuato, abbiamo la sede comunale, questa mattina mi faranno la verifica per l'agibilità, speriamo perché i dipendenti non vogliono stare più dentro, presenta evidenti lesioni. Poi abbiamo le scuole, sicuramente la media non sarà aperta per lunedì perché c'è delle strutture di tamponature, delle murature interne con evidenti segni di crolli, di cedimento e le altre necessitano di verifiche. Questa mattina mi arrivano le squadre della protezione civile. Nel nostro comune la situazione è che adesso, proprio ieri, io ho fatto una serie di ordinanze, proprio perché mi sono venuti alcuni tecnici del genio civile, ordinanze di inagibilità, per cui la situazione è sicuramente molto critica. A noi chiediamo di non essere lasciati soli perché sicuramente la situazione è difficile. Comuni come il mio, che non hanno personale tecnico che faccia i sopralluoghi, è veramente difficile. Io ho dei dati ufficiali, veritieri. Ad oggi ho 243 persone sfollate, 110 famiglie sfollate, 110 ordinanze di inagibilità, 8 attività commerciali, proprio ferme, bloccate e 9 chiese completamente inagibili. Io mi auguro adesso che la regione Abruzzo adotti degli annempimenti veloci, dia il potere ai sindaci perché ogni sindaco deve essere il commissario del suo territorio.